Buongiorno, Elena Mortelliti, che ci raggiunge da Londra, si restituisce e regista della serie BBC Pompei The Dig. Di che cosa si tratta? Raccontaci. Allora, è un lavoro abbastanza grosso, ci abbiamo lavorato per due anni e in sostanza Lion Television, che ha prodotto questa serie insieme alla BBC, Arte e PBS, gli statunitensi, hanno avuto accesso allo scavo, uno degli scavi più grandi di questa generazione, di un'intera area, la cosiddetta Regio Nona. Un'area molto interessante a Pompei e forse meno conosciuta. E quindi noi abbiamo avuto la possibilità di seguire fin dall'inizio tutte le varie fasi di questo scavo. Quindi si è passati dallo scoprire quella che era la parte commerciale di una villa dove c'era un forno e una lavanderia e abbiamo scoperto che a me c'erano anche tre vittime che possibilmente lavoravano lì. E quindi poi insomma i vari tasselli fino a mettere insieme una grandissima villa che forse apparteneva, queste sono supposizioni, però a un magistrato, una persona diciamo molto di alto lango a Pompei. forse potrebbe avere anche un nome perché abbiamo scoperto delle iscrizioni, quindi Aulo Rustio Vero. E proprio ora stiamo continuando diciamo le ultime fasi di questo scavo per mettere forse un po' più di tasselli in questa storia. Perché c'è così tanto interesse nel mondo anglosassone in genere internazionale? Perché chiaramente questa serie è stata distribuita. Allora Pompei è una storia, cioè Pompei diciamo l'eruzione del 79 e il fatto che questa cittadina provinciale sia stata completamente se vuoi congelata per duemila anni, è una storia universale, nel senso che tutti noi siamo di fronte sempre più ai disastri naturali. E quindi un disastro come l'eruzione che ha annientato un'intera città e poterlo studiare e vedere con i propri occhi, credo che sia qualcosa che non smetterà mai di interessarci e di incuriosirci. E dunque credo che, non so quanti documentari vengono prodotti ogni anno, proprio perché c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. In questo momento c'è uno scavo attivo e quindi questo vuol dire che ci sono tante possibilità per infiniti più dettagli su come vivevano i romani duemila anni fa. Quello che è interessante di questa serie, che io ho visto adesso in tre parti e andrete a produrre la quarta, è che tutti i protagonisti sono italiani, la regista, il produttore, ma anche gli archeologi sul campo. Sì, questo è una grande... sono molto fiera di questo. È un documentario, diciamo, cosiddetto d'osservazione, quindi non c'è un presentatore. E secondo noi era molto importante che i protagonisti fossero gli archeologi, coloro che passano tutti i giorni e che probabilmente anche di notte si sognano lo scavo e quindi volevamo viverlo con loro, farcelo raccontare da loro. Ma per fare questo era importante che ci fosse una truppa di italiani, quindi direttore della fotografia, camera, suono, regia, perché comunque credo ci sia un, come dire, know-how italiano che possibilmente una persona, un regista proveniente da un altro paese, probabilmente non avrebbe colto. E nei media, ho letto oggi un articolo, una recensione, la sorpresa da parte dei britannici nella sorpresa degli archeologi quando vedono la pizza e dicono mamma mia, dicono ma allora veramente lo dicono gli italiani, non voi avete i sottotitoli, però avete lasciato l'audio originale. Sì. C'è proprio la scoperta, i due anni vi permettono appunto di scoprire queste cose. Sì, diciamo è una grande scommessa è stato questi due anni, perché ovviamente noi non siamo potuti stare lì ogni giorno, per cui abbiamo dovuto innanzitutto avere un grandissimo rapporto di fiducia tra di noi, nel senso gli archeologi si fidano di noi e noi di loro, in modo che ci potessero dire ogni qualvolta qualcosa, diciamo di abbastanza importante stesse per avvenire, noi ovviamente ci catapultavamo. La troupe ovviamente si trovava a Roma, quindi effettivamente eravamo meno persone da venire dagli UK, ma il grande privilegio è stato poi quello di essere lì, per cui quel mamma mia è impagabile, perché vedi veramente le prime reazioni, queste persone e noi stessi siamo i primi a mettere occhi su queste meraviglie che sono state lì per duemila anni, e quindi quell'emozione è qualcosa che se lo registri in quel momento poi rimane lì, per cui ora finalmente l'abbiamo... Anche questo è congelato, se vuoi. È documentato. Ho visto la scoperta del serpente e dell'altare, io personalmente non ho una cultura classica, quindi non sapevo di queste rappresentazioni. Quanto sono uniche queste scoperte che avete fatto, o quanto rappresentano realtà insieme nel mondo classico? Ma in realtà quello che io stessa non sono un'archeologa, però ho imparato ovviamente stando accanto agli esperti. Ad esempio l'arario, quello di cui tu parli, con i serpenti in realtà sono, quella che doveva essere una cucina, in realtà sono qualcosa di molto consueto in un'abitazione pompeiana. Quello che però era particolarmente sorprendente per gli archeologi era che questi serpenti fossero in rilievo. Per cui per esempio, per noi è stato molto interessante, cioè ritrovare un larario in una situazione diciamo molto consueta, ma con qualcosa di nuovo. E credo ce ne sia solo un altro esempio a Pompei, di questi serpenti in rilievo, che devo dire sono impressionanti. Noi eravamo lì quando sono emersi e devo dire sono delle sculture, se vuoi, abbastanza imponenti e con un messaggio abbastanza forte. Poi c'è l'altare, la riproduzione dell'altare e i resti di duemila anni fa di quello che sull'altare veniva presentato, prodotto. Sì, il sacrificio, sì. Quindi quello è stato molto interessante, perché ovviamente loro si sono resi conto, ovviamente hanno raccolto i resti organici, poi ovviamente gli esperti botanici hanno fatto i loro studi e si sono accorti che l'ultima offerta, diciamo non tanto sacrificio, scusa, volevo dire, qui è l'inglese, l'ultima offerta che non si sa esattamente quando sia stata fatta, ma comunque era l'ultima. Quindi hanno potuto, hanno trovato diciamo gli ingredienti che erano quelli ancora una volta consueti, però fa abbastanza impressione, immaginare. Le cose che ci sono ancora adesso nella campagna, resti di olive, noci, queste cose. Poi c'è un legame tra questi due mondi, quindi non è che sembra cambiato moltissimo, la pizza, il pane, le olive. Esatto. C'erano anche dei resti animali, quindi anche se ricordo pesce, che era anche lì, credo ci fosse una novità, non avevano mai trovato questi resti insieme, cioè trovavano o resti vegetali o resti animali, mentre invece in questo caso erano insieme. Anche questa, per esempio, è una piccola scoperta. Però sì, devo dire, c'è un grosso studio dietro. Cioè ogni scoperta vuol dire nuovi esami, nuovi test, esami in laboratorio. E poi ovviamente quello che fa Pompei, e questa è una cosa voluta dal nuovo direttore, è che loro tendono poi a pubblicare paper scientifici quasi in tempo reale. Quindi dopo una scoperta, tu hai un e-journal sul sito, dopo un mese, due mesi, con gli studi del momento, che ovviamente devono essere presi per quello che sono, cioè uno studio in fieri, ma è molto interessante, perché poi anche il pubblico, chiunque può andare a leggere, quali sono le scoperte del momento. A proposito di studio, tu ormai ti sei fatta una cultura, quasi una laura ad onore, ma è dal 2005 che segui Pompei con Mary Beard, che è un altro personaggio televisivo britannico, quindi quasi vent'anni d'esperienza. Sì, diciamo, sì, è molto tempo che lavoro a Pompei. Il primo fu nel 2015, con Mary Beard, e quindi sì, sono dieci anni e sì, per qualche motivo è stata un'esperienza incredibile la prima e lì ero la producer, in realtà il mio primo, diciamo, credit da producer e stabilì immediatamente un grande legame con Pompei, con le persone, con gli studiosi, gli archeologi e quindi ho fatto in modo poi di continuare a lavorare, quindi ho avuto la possibilità poi di produrre altri, mi pare, 4 o 5 documentari sempre ambientati a Pompei per anche altre emittenti televisive come National Geographic, Channel 5 e ora la BBC. Ricordiamolo che il producer nel mondo anglosassone è l'autore, quindi ti scrivi, non è che ci metti i soldi, ma ci metti il tuo intelletto. Sì, diciamo, è un ruolo più editoriale, se vuoi, nel senso di scrivere, sì, scrivere il progetto e poi dopo insieme, ovviamente, ai produttori esecutivi e coloro che commissionano, i cosiddetti commissioning editors, comunque creare il programma. Nella tua carriera, abbastanza, tua carriera televisiva ventennale, c'è qualcosa che sei riuscito a fare da una tua idea e qualcosa che vorresti fare. Sì, allora, beh, innanzitutto, questa era una mia idea, questa serie, e fu una mia idea anche il documentario precedente per National Geographic, sempre con Lion TV, perché c'era questa grande esperta, un'antropologa australiana che lavora a Pompei tantissimo tempo e lei ha studiato le ossa dei calchi, quindi che cosa fa? lei scansiona o fa raggi X dei calchi che sono fatti in gesso per accedere alle ossa intrappolate, se puoi, e poi scoprire eventuali informazioni su chi fossero quelle persone. Lei ha fatto uno studio particolare sull'orto dei fuggiaschi, questa area a Pompei dove troviamo 13 vittime. quindi la mia idea fu di aiutare Estelle diciamo nel fare questa opera con un documentario e quella fu una grande una grande soddisfazione. E io ho sempre, diciamo, idee, poi il problema è poi vedere se queste riescono ad avere una commissione, però, sì, al momento sto cercando di capire se ci sono altre storie italiane, perché per me a questo punto vivendo in Inghilterra il mio punto di forza è di essere italiana e di avere, diciamo, facilità di accedere alle autorità italiane. Per cui sto cercando di capire se, insomma, ci sono altre storie di archeologia soprattutto che possono interessare e che, diciamo, possano essere commissionate. Quindi questa serie l'hai presentata a Lime TV con cui è un rapporto di collaborazione che poi è stata prodotta da Open University e Arte, che è un broadcaster di statale pubblico francese. Come mai manca un partner italiano in questa produzione, in questa coproduzione? Sì, questo, devo dire, è una grande, è un grande dispiacere. Devo dire, noi ci abbiamo provato, noi intendo, insomma, la produzione Lion Television, però non è mai stato facile consolidare un rapporto, diciamo, di produzione con l'Italia. Credo, ma questo è il mio modesto avviso, sia anche un problema di fondi. Non so se le altre produzioni italiane avevano abbastanza fondi da condividere. Oppure non so se sia una questione anche di interesse, nel senso che comunque ci sono altri documentari che sono prodotti in Italia a Pompei, no? E quindi mi chiedo se non ci sia un conflitto di interessi e quindi probabilmente non sono interessati a questo tipo di lavoro, però ad esempio adesso sono riusciti a distribuire questa serie sul canale Focus di Mediaset. Quindi quando ritorni a Pompei e quando è che sei di nuovo al lavoro per le ultime riprese? Allora, noi riprendiamo, io in particolare riprendo lunedì perché abbiamo già iniziato il montaggio perché noi che facciamo? Montiamo e facciamo le riprese allo stesso tempo perché si tratta di un lavoro così lungo e poi completeremo tra metà settembre e ottobre le ultime riprese perché lo scavo, questo scavo della Regione Ono si sta, diciamo, stanno arrivando alla chiusura. Grazie Elena, buon lavoro e ci aspettiamo alla quarta serie. Complimenti per il successo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.